Ciao popolo blu cerchiato, qui è G di Memel Sampdoria e andiamo con la seconda vittoria consecutiva è finita ieri, Sampdoria 3, Spal 0 perfetto, veramente un primo tempo perfetto giocato con testa, con ordine, con concentrazione andiamo alla partita subito pronti via, si capisce che è una partita molto intensa perché anche la Spal cerca di attaccare la Samp cerca di reagire dopo 10 minuti, cross al centro di Ramirez Salare spinge male Linetti distinto, col sinistro la piazza ed è 1-0 benissimo, benissimo una giocata di gran classe di Linetti ieri era in forma straordinaria perché dopo 5 minuti cross al centro stop di petto, tiro al volo bellissimo peccato che non l'abbia colpita benissimo col piede perché se no avrebbe fatto un gol spettacolare la pala è comunque andata sopra attraversa quindi va bene comunque benissimo Linetti, ottimo giusto atletico poi la Spal ci ha provato, ha provato a reagire colpo di testa di strefezza Audeo è stato molto molto bravo finalmente stiamo vedendo un ottimo Audeo non quello di inizio stagione ma quello che ci piace vedere Audeo bella parata e poi cambia tutto fallo su Ekdal calcio di punizione abbastanza lontano non si pensava potesse essere molto pericoloso si magari il corso al centro sperano un colpo di testo in una direzione in un tocco di mano quant'altro niente Gabbiadini l'ha messa comunque ha fatto una punizione magistrale ma veramente veramente bel bravo bravo Manolo Gabbiadini bravo perché questa è stata una punizione veramente d'oro d'oro sembrava telecomandata con i joystick bravissimo quindi Sam sul 2-0 Spal che ci prova un po' timidamente in avanti nel fine di primo tempo ma forse un po' troppo timidamente la Sam riesce a effettuare un bel contropiede palla in mezzo ancora Linetti 3-0 all'ultima azione del primo tempo 3-0 per la Sam spettacolare abbiamo fatto un primo tempo da 10 elode perché ok la spalla è attaccata noi abbiamo comunque un po' sofferto ma poco perché Collei era in una giornata straordinaria il Collei di ieri era lo stesso Collei che ho visto quando c'è stato Milan Sam che è finito 0-0 che ha fatto una partita pazzesca secondo me non ha sbagliato nulla è stato concentrato è stato attento tutta la partita anticipi interventi scivolate colpi di testa tutto tutto ieri Collei è stato straordinario bravissimo Collei fantastico secondo il tempo c'è poco da dire alla fine la Spal ci ha provato un po' timidamente non è riuscita a trovare la via del gol anche per poco perché nel finale ha preso anche un palo però insomma diciamo che la Sam è scesa in campo con l'idea ok stia vincendo 3-0 diciamo soltanto di non fare minchioni e dire che è quello che hanno fatto bella partita comunque ripeto primo tempo molto molto bello molto vivace secondo tempo molto più blando al di là del del palo preso dalla Spal forse solo la mia impressione però a me è parso che ogni volta che un giocatore della Spal entrasse in area di rigore cercasse il modo o il pretesto per cadere per prendersi un calcio di rigore infatti il risultato pure è stato nessun rigore non ha senso per giocare così no giocare non ha senso comunque forse sono una mia opinione però mi è sembrato di vedere questa cosa in 3-4 circostanze però vabbè al di là di quello brava Sam ottima Sam adesso siamo a più 7 dal Lecce non facciamo stronzate possiamo gestire molto bene questo vantaggio anche a livello psicologico sfruttiamo queste due vittorie consecutive a nostro vantaggio il mercoledì ci aspetta una partita importantissima a Bergamo contro l'Atalanta che sarà difficilissimo visto l'ottimo periodo dell'Atalanta ma non è possibile perché io mi ricordo che iniziano la Spal è andata a vincere a Bergamo quindi io non dico che siamo favoriti perché non siamo favoriti però un pensierino io ce lo farei una bella vittoria anche in caso di ritorno di queglierelle in campo come titolare sarebbe un ottimo valore aggiunto poi con un Linetti così in forma ragazzi è un valore aggiunto a centrocampo quando Linetti gioca come ieri è un giocatore veramente è quasi un top player perché fa veramente di tutto dagli stop contropiedi tira gioca di intelligenza proprio e secondo me spero che sia così è perché la situazione sul rinno del contratto sia un po' definita ovviamente spero in maniera positiva iscrivetevi al canale YouTube e sempre comunque Forza Samp Grazie a tutti